Passiamo adesso alla seconda parte della mattinata con le interviste e chiamo quindi sul palco Nicola Porro, eccolo e come prima persona intervistata Luca Fuso, CEO di Cassina 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 Si riesce a portare a casa qualcosa. Quello che si può poi portare nelle altre aziende dove si va deve essere appunto qualcosa che è coerente con quelle aziende e non necessariamente fare lo stesso che si è fatto già in altri posti. Io cerco sempre di non farlo mai. Nel design bisogna capire bene quello che sono i canali di vendita, quello che è il prodotto, sono le cose che si possono fare e come si possono fare senza necessariamente portare delle cose che arrivano ad altri settori. Di sicuro una cosa che è importantissima e che io ritengo veramente fondamentale è l'attenzione verso il cliente, verso il cliente che è sia la nostra distribuzione, quindi sia i rivenditori che ovviamente i clienti finali. Questa è una cosa fondamentale che in tutto l'ambiente dell'uso c'è e va portata. Un'altra cosa che ritengo di poter portare dalle mie altre esperienze precedenti è l'esempio dall'ultimo, dalla Ferrari, quello di ragionare come si fa poi nell'automotive in generale, non tanto nel lusso, ragionare sul lungo periodo. Quindi avere un piano gamma prodotto che non è soltanto quello dell'anno successivo, ma è quello che pensa. Ma anche per il design è importante, non soltanto per l'automotive che ci si mettono 4-5 anni per poter fare un prodotto. Adesso meno, sì. Ah, meno? Sì. Anche per il design credo sia molto importante avere chiara l'idea di dove si è e di dove si vuole andare e non soltanto quindi per l'anno successivo ma a livello priori in generale. Senti, e far parte invece di un gruppo questo rappresenta un'opportunità o può anche essere un vincolo? Perché poi fate parte di… Far parte come un gruppo che è il Lifestyle Design, che è una federazione di aziende che vengono mantenute indipendenti e quindi che hanno la loro autonomia e che possono lavorare tutti quanti in maniera indipendente, è per me un grande vantaggio. E a sua volta far parte di un gruppo ancora più grande, che è il gruppo Eward, che è il proprietario di Lifestyle Design, è un vantaggio ancora più grande perché essendo un gruppo imprenditoriale ha una strategia di lungo termine e non una strategia di breve e medio termine. Questo consente di lavorare veramente con grande serenità, con grande tranquillità, cercando di fare le cose bene e quindi potendo guardare veramente al risultato di lungo periodo e non soltanto a quello immediato. Quindi per me è veramente… Non c'è un'omogeneizzazione, qualche linea guida che può rendere il prodotto un po' troppo simile? No, anzi, proprio le aziende sono state rese indipendenti in maniera tale da evitare questo perché ogni marchio ha la sua personalità, ogni marchio deve avere la sua indipendenza, autonomia, altrimenti non avrebbe senso avere diversi marchi. e Lifestyle Design è una federazione di marchi, di aziende, adesso sono state inserite anche alcune aziende di retail e tutte lavorano in maniera indipendente, poi è chiaro che possono esserci delle sinergie ma avvengono soltanto quando sono veramente possibili e creano dei vantaggi. Lei c'è sotto la sua direzione, mi correga se sbaglio, ovviamente sia il residenziale sia il contract, ci sono sinergie? Come è stato detto prima molto bene, credo adesso non c'è più veramente distensione tra quello che è residenziale e quello che è contract, ormai è tutto quanto un progetto, anche se io devo fare un ambiente di casa mia, comunque è un progetto che ho fatto perché bisogna ragionare in questo senso, nel senso di avere un'idea, svilupparla, portarla a termine e non è più secondo me l'acquisto di un prodotto, ma è un concetto, quando si parla di un acquisto per privati lo stesso, è sempre un piccolo progetto e poi invece quando si parla di hotel, di cose più grandi, ovviamente la scala è diversa ma l'importante è che ci sia un concetto ben chiaro alla base. Acquisizioni ne avete fatta appena una, avete in piano di fare nuovo shopping in giro o vi fermate? Noi adesso abbiamo... E perché l'avete comprata Caracter? Stiamo integrando Caracter che diciamo è un brand che è veramente complementare rispetto a Cassina e che comunque rimarrà indipendente come tutti i brand all'interno del nostro gruppo, è un brand complementare perché Caracter ha fatto un po' di reverse engineering rispetto a quello che fanno gli altri brand di origine danese come Caracter che è una start-up danese e loro hanno colto l'occasione di prendere dei diritti di autori italiani in particolare, quindi come Gio Colombo, Achille Castiglioni, Mangiarotti eccetera e inserirli in un'azienda danese, quindi facendo il contrario di quello che fanno tutti i danesi che si riferiscono più che mai ad aziende del loro mondo. E poi hanno anche inserito una serie di designer contemporanei, per cui è un'azienda che fa esattamente in piccolo il suo lavoro che Cassina ha fatto negli anni. Sì, è una strategia questa di comprare aziende che possono darvi mercati diversi e ampliare la vostra gamma prodotti? Sì, certamente diciamo a livello di gruppo è una strategia importante, poi a livello delle singole aziende, delle singoli marchi, se capita diciamo la possibilità di fare un pairing, quindi una collaborazione con delle aziende specifiche, tanto meglio, ma in linea di massima... Ce ne siamo occupati molto l'anno scorso in questo convegno identico all'anno scorso sull'e-commerce, voi avete dei prodotti tipici che potrebbero, perché avete dei prodotti iconici che si riconoscono, che si possono comprare, sai quello che compri senza andarlo a toccare, adesso diciamo così. Sì. Non tutti hanno la stessa capacità, come si svilupperà, si sviluppa, quanto peserà per voi? Allora, posto che come si è visto prima l'e-commerce ancora per l'azienda del lusso... Sì, ma non solo per il lusso, è molto poco in Italia, mi sembra che anche in altri campi è intorno al 2-3%, correggimi se sbaglio, non è così sviluppato da noi. Sì, diciamo che poi nell'arredamento ancora meno, il fatto sicuramente di avere dei prodotti iconici come a Cassina è sicuramente un vantaggio, perché probabilmente uno non deve andare a provarli, perché magari li ha già visti in molte occasioni, mi ha già provato in molte occasioni, per cui può essere un vantaggio. Quello che noi vogliamo sviluppare veramente è la digitalizzazione, più che il concetto di e-commerce, perché comunque è importante mantenere il rapporto con la nostra distribuzione, e poi alcune cose sì possono essere vendute online, però quello che conta è veramente dare la possibilità a tutti quelli che vogliono documentarsi di conoscere bene il prodotto. Cioè vedere il prodotto, saperlo scaricare, guardarlo... Ognuno fa ricerca prima di fare qualsiasi acquisto, per qualsiasi cosa. Certo. A maggior ragione nell'acquisto di prodotti comunque di costo rilevante, come quelli del design e dell'arredamento in particolare, è evidente che questa ricerca prende un tempo più lungo, così come il processo d'acquisto. Questo è un processo lungo e va aiutato, va aiutato dalla digitalizzazione che poi può sfociare in alcuni casi nell'acquisto online in altri... Senta, e dall'altro invece aspetto diametralmente opposto, dal progetto online, che ho capito in cosa consiste sostanzialmente una digitalizzazione più vasta, l'idea invece di vendere interi ambienti, che è una delle vostre strategie. Io direi banalmente per aumentare il fatturato, una volta che uno c'è un cliente cerca di... o sono troppo terra-terra, mi scusi. Sicuramente, non nascondo che questo sicuramente è un obiettivo di tutte le aziende, voglio dire... Ma è così semplice passare da un... non è così banale questo... No, non è per niente banale, però diciamo che la tipologia di gamma di Cassina, il patrimonio di prodotto di Cassina è talmente vasto che veramente consente, combinando diverse cose, quindi prodotti nuovi, prodotti già esistenti, icone, di creare degli ambienti che non danno lo stesso risultato che può esserci con prodotti di altri marchi, ma hanno un risultato molto diverso perché il design è molto più eclettico, quindi si possono combinare diverse mani, diversi pensieri di diversi autori nello stesso ambiente e messi insieme queste creano una cosa originale. Per cui io credo che... sì, è vero, sicuramente c'è una finalità poi evidentemente anche commerciale, inutile negarlo, però è soprattutto un modo per dare la possibilità di riconoscere la marca, a presentarla in maniera completa a livello del punto vendita, secondo l'interpretazione che viene data dalla marca stessa e non quella che poi viene data da... Sai che cosa hai? L'ultima domanda che le faccio, anche questo diciamo un po' da outsider, la sua azienda, come tante altre che abbiamo visto in questi incontri, hanno dei prodotti iconici stupendi che tutti quanti noi conosciamo e la domanda che vorrei fare dell'ultima è questa, sta lavorando per i prodotti iconici, per il convegno che faremo qua fra trent'anni? Perché qui siamo sempre a parlare dei prodotti iconici che ha fatto un'Italia straordinaria negli ultimi cinquanta, diciamo, però bisogna lavorare oggi, glielo chiedo perché... L'obiettivo è sempre quello di trovare... Ha capito cosa voglio dire? Sì, certo, l'obiettivo è quello di fare ogni prodotto che possa rimanere... Continua a essere... Nella storia, sì, evidentemente è un obiettivo che abbiamo sempre, cioè non è che si fa un prodotto perché rimanga... Noi non lavoriamo nel fashion, nel fashion ci sono delle cose che vanno a una stagione e poi non vanno più, ci sono delle cose che si possono prendere dal fashion ad esempio e portarle anche nel design, però il lavoro che si fa su ogni prodotto è quello per poi farlo, cercare di farlo rimanere nel tempo, perché sono valori importanti che quando uno si mette a casa una cosa poi è difficile che riesce a spostarla, cioè una borsa si mette nell'armadio, un divano un po' più difficile, per cui è importante che tutti i prodotti poi continuino nel piacere e quindi cerchiamo di lavorare sempre per... Benissimo, grazie Luca. Grazie.